Nuova Volkswagen Tiguan. Vieni a scoprire la terza generazione del SUV di segmento C tra i più venduti in Italia agli autocentri giustozzi di Perugia, Foligno e Terni. La nuova Tiguan è un concentrato di design con i rinnovati interni ed esterni, sostenibilità grazie all'introduzione di una gamma di motori ibridi e tecnologia grazie al nuovo infotainment intelligente e display fino a 15 pollici. Nuova Volkswagen Tiguan. Per tutti i viaggi della vita. Grazie.